Un pomeriggio ed una notte tutti da vivere a Brolo, domenica 26 maggio, grazie all'iniziativa Fuori Tutto. Sino alle ore 22, infatti, il centro del comune brolese si animerà di stand e bancarelle, con i negozi aperti non stop, che offriranno la loro merce a prezzi scontatissimi. Ad essere coinvolti saranno le attività commerciali di ogni genere, compresi bar, rosticerie ed altri punti di ritrovo, che garantiranno le loro migliori prelibatezze, anch'essi a prezzi bassi. Fuori Tutto è un'iniziativa fortemente voluta e promossa dall'assessorato al commercio del comune di Brolo, per dare segnali di vitalità ad un settore commerciale che annaspa nella crisi. Per dare respiro ad un comparto che in questo momento chiaramente non sta vivendo il suo momento migliore. E l'altro va a toccare i cittadini, perché chiaramente se si può risparmiare qualcosina, credo che sia un bene per tutti. Fuori Tutto non sarà però solo un'iniziativa commerciale, ma una grande giornata di festa che trasformerà il Corso di Brolo in un grande villaggio con musica e animazione. E' anche una scusa per poter passeggiare per le vie del Corso, ci sarà infatti anche la partecipazione dei bar che faranno degli aperitivi a prezzi veramente competitivi, e ci sarà anche della musica e i confiabili sul Corso.